Ecco Carletta, stasera dopo la prima flebbo si sarà ripresa perché abbiamo un ospite di onore. Eccola qui. Insomma, ma mi potete mandare ragazzi al rifugio una persona alta, un metro e ottanta, anche di più? Cioè che praticamente io sono un tappo e niente più? Eh, non è normale. Insomma, è venuta Monica, appunto l'ospite di onore sta un attimino nel suo. Si dice così Monica, sta nel suo? Ha conosciuto la nostra lupa, eccola qua, lupa, lupa, che cosa vuoi azia, azia, mamma, che cosa vuoi? Siamo con questa lingua da fuori. Carletta che insomma sta camminando, mi sembra che dopo una bella flebbo di quelle, domani un'altra si è già ripresa notevolmente, è intossicata da tutti questi farmaci, non vi posso prendere dolce in questo momento per chi sta andaffarato con, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Il volpino, il volpino. E qualcuno ha detto, ma se è puro si paga. Minnie, tu sei femmina. Ma ragazzi, ma qua stiamo trovando i numeri. Minnie è femmina ed è serializzata. Minnie è femmina ed è serializzata. Sta a fare sta cosa con Pimpa che è femmina. Questo sta a fare il maschio col maschio. I tempi stanno cambiando, Monica. Cioè, dillo al gruppo. Ma è l'aria. È l'aria. Cioè, non mi sembra normale. Carlo, amore, sei contenta che è venuta Monica? Eh? Sei contenta che è venuta Monica del gruppo? Sì? Raga, sbranatevi, basta che non fate gli omosessuali con tutto il rispetto per loro, ma non ci possiamo riprodurre, insomma, tutti quanti così. No, questa la taglio, perché non si può sentire. Mi è uscita così, è una cazzata incredibile. La nostra lupa che si fa un po' coi fatti suoi. Questi che si stanno un po' a giocare, un po' a sbranare, un po' coche. Il volpino non si può pigliare. E la nostra carletta è quella che è la più dolce. Voi, la mambina, domani lo stiamo di nuovo a fare una grande flebbo. Una grande flebbo. E vai, mi stiamo dicendo, eh? Allora, Bosh, 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 il nostro vecchietto Bosh. Il volpino innamorato pazzo di dolce. E il mini che non si capisce niente. E si sta facendo notte, se non ce ne andiamo qua, succede qua. Allora, Monica, ti posso ripigliare un attimo? No. No. Grazie. Comunque voglio dire una cosa, è bella. Non lo dico perché, non mi ha pagato per dire questa cosa, ve lo giuro. È bella, ha un viso dolce. Appena è venuta, è fatta un pianto per pensare i cani in genere. Cioè, ho detto, cazzo, invece di sta meglio io, sta peggio lei. E poi, approfitto anche comunque, già che ci siamo. Cioè, no, non posso perché c'è il bambino, taglierò anche questa. Quindi ricomincio da qua. Sono molto contenta della visita di Monica. Che mi sa, che si è fatta questo, questo pianto liberatorio per l'amore di tutti i cani. Vero amore di mammina. E vabbè, insomma, poi diventerà molto più piccola Monica, te lo giuro. Sto aspettando, è quella felice di fumare che si mette a fianco al tuo figlio. Non la posso pigliare. Vivi qua, imma, vatti a giocare con i cani, vai. No, da là sta, vuoi un po' da con lì. Fuori, fuori. Eccolo qua, il vecchione che si siede. Il vecchione che si siede. E abbiamo un altro ospite, un'altra ospite d'onore. Finalmente, una settimana di ricerche ossessionate. Ce l'ha fatta, imma, di febbraio. È qui, è una carrabbata. Ragazzi, lo sapete che sono un po' stressata, è un po' esaurita. Cioè, si sente, no? Ho anche qualche problema, insomma, personale di salute. Io penso che, insomma, voglio dire che non è a livello proprio psichiatrico, Monica, ma quasi. Tu come mi vedi? Cioè, mi vedi normale. Posso essere anche... Guardate l'upa. Delle canare, delle gattare. Che appena trovate tutto questo, ragazzi, ci siamo lasciate alle tre, che ero esaurita. Io sono scesa di casa per andare a microcippare, rotte la piccolina e ho trovato un altro cagnolino che poi verrete il video. Ragazzi, state bene, sembra che state bene. Nessuno mi viene adottato, è difficile di andare a casa. Dovete andare a casa. Dolce, amore. No, ma aspetta, ogni volta che ti chiamo, non ti fai. Lui è impegnato. Cioè, Dolce è difficile da fare. Che sei, Luca? Che c'è? E non si può. Come ha già fatto? Comunque, insomma, questa serata è passata. Nel frattempo, quello che avete visto sono soltanto due metri di coscia che non si è ancora visto allo stacco, perché non vuole si riprendere il viso, che poi è bellissima. Però voglio dire, quello che vedete, cioè, non è finto, è vero. Cioè, quello è soltanto fino al ginocchio. Poi non vi dico che ci sta altri due metri di stacco. Ecco, queste sono le tettine che praticamente sono pure anche queste come la coscia. Cioè, non si capisce più da dove inizia e da dove finisce. È una cosa bella, bella, va bene, ragazzi. Ok, boss, dopo andiamo dentro. Boss, ma tu mi senti? Sei collegato, boss? Boss, sei collegato? Ciao, Lupetta. Ciao, Lupetta. Ciao, Lupetta. Salutiamo. Pimpa. Il volpino, il volpino. Qualcuno ha detto, forse già l'ho raccontata questa cosa, sì, vabbè, forse me lo spiego.